Si è parlato di cavalli e del loro futuro nel convegno organizzato nei giorni scorsi a Ozzieri. Vediamo il servizio di Emanuele Floris. Due decenni di attività celebrate nei giorni scorsi in un convegno a Ozzieri. A essere festeggiata è l'ANACAD, l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Anglo-Arabo e i suoi derivati. 20 anni di attività significano avere un passato importante, avere una storia e avere un'identità. Con la consapevolezza che siamo i custodi di principi importanti soprattutto per il cavallo anglo-arabo. E proprio questa eredità è stata al centro dell'incontro tecniche di riproduzione assistita nel cavallo dove tra i relatori sono intervenuti, tra gli altri, il medico veterinario Irma Rosati, attualmente direttore sanitario del centro di riproduzione equini EquiArs nel Regno Unito. Rosati ha trattato argomenti come la clonazione per trasferimento nucleare o la crioconservazione degli embrioni, parlando sempre del cavallo anglo-arabo. Abbiamo l'intenzione di trasmetterli, non solo custodirli, ma di trasmetterli alle generazioni future. Così come dice il titolo, allevare il futuro, è un'associazione alla nostra che propone tante cose e tante cose intendiamo fare in un futuro prossimo.